Grazie ad un impianto tecnologico nella filiale torinese della Banca Alpi Marittime i clienti potranno accedere alla loro cassetta di sicurezza in qualsiasi orario 24 ore su 24. Un servizio unico in Piemonte e uno dei pochi in Italia. Inaugurate le cassette di sicurezza disponibili 24 ore su 24. Sono 300 di varie dimensioni e tramite un sistema robotizzato il cliente vi accede in qualunque momento della giornata nella massima riservatezza. C'è una grande richiesta, i tempi sono probabilmente favorevoli per questo tipo di attività, di servizio. Abbiamo una coda di richieste, quindi è molto sentito. Il fatto di poterne disporre 24 ore su 24 ogni giorno della settimana credo che sarà un fattore di successo. 110 anni di vita, sede centrale al Castello di Carrù, 18 filiali, 150 dipendenti, 8.300 soci, 78 milioni di patrimonio, gestisce un miliardo e mezzo di risparmi. Da 14 anni sede anche a Torino, recentemente rinnovata nel capoluogo a un migliaio di clienti, di cui 350 soci. Clientela diciamo medio-piccola, quindi dall'impresa alla famiglia, ai professionisti, artigiani e commercianti. Quindi li trattate diciamo da soci? Assolutamente, oltre l'80% dei nostri clienti è socia della banca di credito cooperativo. Grazie a questo fatto hanno delle agevolazioni, quindi hanno un ritorno sotto forma di migliori condizioni sia di tasso e sia condizioni economiche di commissioni, spese e quant'altro. E sono loro i padroni della nostra banca. Grazie.